Oltre 218 milioni di euro per potenziare gli aeroporti della Puglia sono le risorse economiche in arrivo dopo l'approvazione da parte di ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, del contratto di programma di aeroporti di Puglia valido per il periodo 2024-2027. Il 30% dei fondi sarà destinato a Bari, il 25% a Brindisi, il 23% a Taranto o Grottaglie e il 22% a Foggia. L'obiettivo è quello di avviare una serie di interventi finalizzati al miglioramento della capacità aeroportuale degli scali pugliesi e dei servizi destinati ai passeggeri all'inalzamento del livello di sicurezza e alla qualità dei servizi in generale con maggiore tutela dell'ambiente. Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, si tratta di un traguardo che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni da tutta la struttura di aeroporti di Puglia e da quella regionale. E intanto Pierluigi Di Palma, presidente dell'ENAC, ha rivelato che il nuovo contratto di programma ENAC Aeroporti di Puglia verrà formalizzato a breve ed è uno strumento importante per continuare a garantire il percorso di investimenti e la realizzazione di opere che porteranno un ulteriore inalzamento degli standard di sicurezza, della qualità dei servizi e della tutela dei diritti. Grazie. 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 Grazie.